Sessantesimo giorno di quarantena di mestiere Facial Mental Coach. Ormai, come in tanti di voi sapranno, che cosa posso fare visto che non posso ricevere i miei clienti? Bene, addestiamo il mio cane. Atto 1. Primo Biscotto. Vi presento Oscar. Oscar, fermo. Oscar, primo biscotto, vai. Oscar, fermo. Oscar, seduto. Oscar, seduto. Oscar, seduto. Amici, è più forte la tentazione del secondo biscotto che ascoltare il proprio Mental Coach. Alla prossima. Soddisfatto o rimborsato?